Alessia Appolita, la campionessa di moto che va più veloce di tanti uomini, ha avuto un incidente a Misano e adesso non sta bene. So che tanti di voi le stanno scrivendo un messaggio, insomma che le volete bene e le augurate di riprendersi. Io mi limito a pubblicare le news che mi manda suo fratello Alessandro, anche lui campione di moto. Magari avete voglia di dire qualcosa anche voi. E allora, per non intasare la sua, mi sono permesso di creare una casella di posta alessia51-misterhelmet.com. Se e quando avrà voglia potrà aprirla, daremo a lei solo la password, e leggere quanto le state vicino. Non le intasate con immagini grandi o video, solo messaggi. Così potrete essere così tanti che le ci vorrà una vita intera per leggerli tutti e rispondere a tutti voi. E magari non lo farà perché sarà di nuovo troppo impegnata con le moto per trovare il tempo.